Ecco, qui le misure precise al millimetro per un setup perfetto. Non ci sono, vi spiego meglio. Quanti millimetri di relief devo dare al Thrust Rod per avere un setup perfetto alla mia Stratocaster del 72? Va bene lo spessimetro da 2 mm e 42 per settare l'action del mio Precision Master Build. L'altezza al capotasto della corda è esattamente lo spessore della mia carta di credito come scritto in una guida scritta da un signore morto permaloso. Io sono a posto. Sono tutte domande senza senso. Non esiste la misura perfetta per un certo strumento di una certa annata. Non ha senso anche perché basta cambiare la scalatura delle corde per far perdere di significato a tutta questa tiritera. Non si fanno in setup in funzione di un particolare strumento di una particolare annata. Si fanno setup che suonino bene. I fattori realmente in gioco sono la precisione della tastatura, lo stato di salute del manico e ovviamente un minimo di informazione su come lo strumento verrà suonato. Ecco alcuni esempi di presentazione efficace. Oh fammi un setup con delle 0946 action molto bassa. Ho il tocco leggero e tendo a fare fraseggi veloci. Mi fai un setup con le 45 130? Uso spesso il plettro e un sacco di volte sono in drop D. Capito? Dovete farvi fare setup fatti bene. Non fatti secondo tutorial con numeri presi a caso che probabilmente sono ottimi per altri strumenti. Condividete il video in gruppi numerosi di musicisti sempre armati di spessimetro e scrivete nei commenti l'effetto che fa.